Buongiorno, buongiorno dal dottor Claudio Saracino da Benessere Ipnosi Soluzione, l'ipnosi di CS, vera e professionale con la V maiuscola. Oggi rispondo ad un signore che mi scrive da Lisbona, Portogallo, dicendo Dottore, secondo me tutto ciò che si dice sull'ipnosi sono tutte merite cazzate, cazzate con la K maiuscola, sono sciocchezze, io non ci credo e non so perché voi state a parlare continuamente di ipnosi. Io rispondo a lui, rispondo anche a te se hai questi dubbi, se pensi che siano cazzate, perché anch'io tanti e tanti anni fa pensavo come te, ero scettico, impaurito, avevo paura di effetti collaterali, avevo paura di manipolazioni. Poi dopo ho scoperto, grazie al regalo di un libricino così piccolo, all'epoca mi ripetevo sempre la frase, ho spessissimo, ho letto tanto in vita mia, perché ho diverse lauree e non mi va a disleggere più nessun libro, come fa la media dei laureati, se rifletti. Perché il subconscio associa libro dolore, perché per studiare ti posso garantire che bisogna sacrificarsi e sacrificare, quindi dolore, inconscio, e aggiungo anche conscio per certi versi. Per cui questo libricino ho iniziato a leggerlo velocemente, parlava di materie mentali, neanche di ipnosi, di pensiero positivo eccetera, ho fatto gli esperimenti che mi si diceva di fare, riuscivano, almeno su di me, e mi sono meravigliato, quindi ho iniziato il viaggio del salmone, ok? E ho scoperto che, e ho scoperto che, e ho scoperto che, le cose non stavano come mi avevano fatto credere, e i poteri, i cosiddetti poteri forti, sull'ipnosi, da giu cascasella, l'ipnosi da spettacolo, l'ipnosi da film, l'ipnosi da paura, l'ipnosi fuffa anche, che si vede in giro, che si vedeva in giro soprattutto all'epoca, in tv e compagnia bella. Perché? Perché non esiste nessun effetto collaterale, non esiste nessuna manipolazione, non esiste nessun obbligo, tu ascolti tutto, senti tutto e quando vuoi apri gli occhi, mandi a quel paese che ti sta ipnotizzando e vai per la tua strada. Tutto ciò che si racconta invece di negativo, lasciamolo agli esperti del settore. Tornando al discorso delle cazzate, ti posso garantire che l'ipnosi vera e professionale con la V maiuscola, perché come in ogni ambiente, anche in quello della medicina, esistono i ciarlatani, gli imbroglioni, esiste tutto di più, ti posso garantire che l'ipnosi vera e professionale con la V maiuscola è riconosciuta come medicina alternativa dall'Associazione Medica Mondiale nel 1958 e dalla Chesa nel 1847 con Papa Pio IX. E lo stesso Papa Giovanni Paolo II, Papa Votile, il Papa Polacco, si auto-ipnotizzava per imparare le lingue straniere e ne conosceva più di 12, come ha dichiarato nella sua Biografia. Un libro così grosso che vi invito a comprare e a leggere. Come se non bastasse, per farti capire che non è ciarlataneria né è cazzate l'ipnosi, considera che in tutti gli ospedali del mondo, tutti gli ospedali del mondo, si usa l'ipnosi per l'anestesia, per togliere il dolore, anche per le persone che devono subire operazioni di alta chirurgia, che sono intolleranti ai farmaci dell'anestesia. E poi, come se non bastasse, vai a guardarti Lancet, Life, riviste scientifiche internazionali dove vedrai una marea di casi studio, di ricerche scientifiche fatte con l'ipnosi, vera e professionale con la V maiuscola, da non confondere con l'ipnosi fuffa, l'ipnosi da paura, l'ipnosi da spettacolo. Ok? Tu considera che l'ipnosi di CS vera e professionale con la V maiuscola unica al mondo? Proviene direttamente da Los Angeles Baby Reels, due grandi artisti dell'ipnosi, vera e professionale con la V maiuscola, il professore dottor Miguel Angel Garai, la dottoressa Rina Brunini, i miei maestri, i miei mentori, i miei associati, i miei amici per l'eternità, a cui devo tutto, posso dire, e su cui ho fondato il mio metodo di CS. Ed è dal 2008 ad oggi più di 12 anni che mi ipnotizzo H24, anche adesso sono ipnotizzato, anche se a te non sembra, perché non mi costa tempo, non mi costa soldi, non mi stressa, non mi impegna, non mi fa mettere gli auricolari, per cui perché no? E ti posso garantire che la mia vita è cambiata dal 2008 ad oggi da così a così, e cammino sulle acque, ok? Per cui a chi pensa che siano cazzate, scusa l'espressione volgare, o che chi parla di ipnosi vera e professionale sia un cazzaro, ha sbagliato bersaglio, perché prima, perché ciarlatano e cazzaro, come si dice in romanesco, soltanto la persona che non si documenta, chi non approfondisce, chi è pigro di natura, chi non vuole saperne, e così e basta, e segue il greggio, il greggio e le pecore. E poi si meraviglia perché quell'1% sta in alto, in tutti i sensi immaginabili e possibili. Per cui solo a te la scelta, se vuoi capire di cosa sto parlando, scaricati un audio MP3 DCS che può fare per te o per il tuo caro, dal sito della mia associazione, i prologi associati di Los Angeles Beverly Hills, a cui ho ceduto tutti i miei diritti sugli audio MP3 DCS, perché grazie a te non ho bisogno di mangiare per vendere audio MP3 DCS, perché senza vanità sto bene per le prossime 37 vite. Lo faccio perché voglio divulgare, diffondere le mie esperienze dirette e indirette, il mio metodo DCS del dottor Claudio Saracino a più gente possibile, dire in tutto il mondo, senza bandierine, ok? Poi a chi le ha provate tutte, non ha ottenuto nessun risultato, zero fatti, può provare l'ipnosi DCS vera e professionale con la B maiuscola. Naturalmente non devi credere a nessunissima parola del sottoscritto, perché il mondo è pieno di bavarders, dicono in Francia, chiacchieroni. Devi soltanto fare, approfondire. Adesso hai il cellulare nelle tue mani che è la vera università, invece di stare a carseggiare, a perdere tempo su sciocchezze. Documentati sul mondo dell'ipnosi vera e professionale con la B maiuscola, approfondisci, a prescindere dal sottoscritto, perché il sottoscritto ha sospeso le sessioni online di ipnosi DCS vera e professionale con la B maiuscola per problemi di tempo e di impegni, perché voglio divulgare il mio metodo DCS a più persone possibili, per cui non avevo tempo. Però ti posso garantire che puoi anche andare presso un professionista dell'ipnosi vera e professionale con la B maiuscola della tua zona, anche se non usa il metodo DCS unico al mondo, sederti, domandare, perché chi domanda comanda, e iniziare a cambiare la tua vita dall'A alla Z a 360 gradi. Chi pensa è che quando si parla di ipnosi DCS vera e professionale con la B maiuscola si debba solo parlare di salute. Ha sbagliato, ha sbagliato, perché come in alto così in basso, come in cielo così in terra, come dentro così fuori, come a destra così a sinistra. Che cosa voglio dire con queste metafore? Voglio dire che se tu elimini, cancelli da solo con l'aiuto dell'ipnosi DCS vera e professionale con la B maiuscola unica al mondo, anche con un solo audio MP3 DCS che può fare per te o per il tuo caro, che magari non vuole neanche il tuo aiuto perché funziona lo stesso, se sai e rispetti l'istruzione alla lettera molto facile, alla prova di un nonno, alla prova di un figuro, alla prova di un idiota, beh tu ti puoi meravigliare del potere della tua mente che scacciando via tutte le nuvole nere dalla tua mente, dal tuo subcosciente, dal tuo pilota automatico che comanda il tuo destino, che plasma il tuo destino, tu vedrai il tuo corpo risorgere, superarsi, trionfare, così anche te trionferai nella tua vita, nel tuo successo, nelle tue ricchezze materiali e spirituali. Tutto proviene dal nostro subcosciente, senza ma e senza se, e chi dice il contrario fa parte di quel club di pecorelle smarrite che quando inventarono l'autovettura, la carrozza senza cavalli o la corrente elettrica o la luce artificiale o il telefono oppure la tv dicevano che erano cazzate, che era magia, che erano sciocchezze, che erano imbrogli, anche del famoso Gesù, anche se l'ipnosi non ha nulla a che vedere con la religione e la politica, anche di Gesù, molti dell'epoca lo chiamavano i farisei, lo chiamavano ciarlatano, demone, imbroglione, e se non credi a me vai a leggerti il Vangelo, o domanda a chi, magari tua madre, conosce il Vangelo. Io sono stato un mezzo chierichetto mancato da piccolo, mia madre è mezza suora mancata, la chiamiamo così in famiglia, perché è molto religiosa, anche se aperta di mente, non è bizzoga, e ti posso garantire che funziona così. Oltretutto io sono come Santo Maso, se non vedo, se non tocco, non credo, ok? Per cui tu puoi stare anni e anni a parlarmi, ma io, come ho fatto prima di approcciarmi al mondo dell'ipnosi, non ti credo, finché non tocco, finché non vedo. Ti posso garantire che l'ipnosi di CSV era professionale a V maiuscola, l'hanno usata dal nord al sud del mondo per diverse tematiche, persone anche cardiopatiche come mia madre e centinaia e centinaia di altre persone, sposando medicina tradizionale e ipnosi, perché l'ipnosi di CSV era professionale con la V maiuscola è fatta solo di parole naturali, comprensibili, senza nessun effetto collaterale, pulite, trasparenti, però create ad arte, ad tocco, con un'intrisa di un antico sapere che sfiora quasi un secolo. Questo secolo proviene dal professor dottor Michelangel Garai, nella guerra civile del Nicaragua, ok? Per cui questa è un'altra storia che ti racconterò più in là, però questi audio mp3 dicesse, queste suggestioni sono create ad arte, basate sull'esperienza pratica, fisica, mentale e energetica dei miei maestri, dei miei mentori, dei miei associati, la stessa dottoressa Rina Brunini, che hanno aiutato migliaia di persone, migliaia, migliaia e migliaia, e io ho ereditato questo sapere antico e ho coniato il metodo DCS, l'ipnosi DCS vera e professionale con la B maiuscola unico al mondo ed ecco perché mi ipnotizzo H24 da più di 12 anni, poi ci ho messo circa 10 anni per mettere questa faccia davanti a questi schermi per vari motivi, perché avevo e ho una reputazione da difendere perché ho molte attività in tutto il mondo. Partito da studente lavoratore senza una linea in tasca, in quel di Modena vicino a Milano e oggi grazie a Dio, grazie al mio subcosciente, grazie all'ipnosi DCS vera e professionale la B maiuscola unica al mondo, sto bene per le prossime 37 vite. Perché ti racconto ciò? Per ispirarti, per ispirarti a prescindere dal sottoscritto. Tu mi puoi mettere anche a lato, non guardarmi, non considerarmi, ma vai, approfondisci, anche gratuitamente, c'è un sacco di materiale su internet, da fonti accreditate, Lancet, Life, sul rapporto ipnosi vera e professionale B maiuscola e essere umano. Noterai che non ha nulla a che vedere con l'ipnosi fuffa, l'ipnosi da spettacolo, l'ipnosi paura, l'ipnosi da film, per cui se non vuoi scaricarti audio MP3 DCS, perché oltretutto ho sospeso le sessioni online di ipnosi DCS vera e professionale con la B maiuscola a data da destinarsi, però ti posso garantire che centinaia e centinaia di persone hanno risolto il loro problema piccolo o grande con il potere del loro subcosciente, anche con un solo audio MP3 DCS dal titolo no passato negativo, no depressione, no ansia, no panico, no stress, molto controllo dei nervi, no timidezza, no gelosia, chi più ne ha più ne metta. Puoi anche andare presso un professionista della zona in cui risiedi e abiti nel mondo, in questo momento, che però abbia già affrontato casi come il tuo, per non spendere soldi inutilmente, sederti, domandare quanto costa, quanto non costa, quante sedute, che cosa succede, raffatti i risultati e dopo decidi. Come ho fatto io nel 2008, quando da ipnotista autodidatta provai ad ipnotizzare mio padre col piede da un ictus fulminante, dove i medici e tutti i luminari della scienza moderna a cui portai mio padre e dove ho speso un botto di soldi, una montagna di soldi, tutti dicevano che non c'era nulla da fare, era destinato a rimanere come una larva, un vegetale nel letto, infatti mio padre colpito da un ictus che lo ha paralizzato per la parte destra del suo corpo e rimasto nel letto per quasi due anni, un anno e mezzo o due, non parlava, non reagiva, aveva sviluppato piaghi di decubito in tutto il corpo, su tutto il corpo. Io provai di ipnotizzarlo nel 2008, come ho scritto anche nel mio libro, ci riuscii a portare in una trance profonda, usci acqua dal naso come un rubinetto, mi fermai perché ebbi paura, non sapevo cosa dire all'epoca, oggi lo so, perché ho aiutato tante altre persone, con ictus paralisi, perché ho ereditato, ripeto, ho studiato dai miei maestri, il professor dottor Miguel Angelgrave e la dottoressa Lina Brunini che a Los Angeles e in tutto il mondo hanno realizzato veri e propri miracoli della mente e scrissi non riuscendoci, siccome mio padre era destinato a stare lì, non parlava, depressione cronica, non mangiava, scrissi un'email in tutto il mondo, mi ricordo sulla mia scrivania su questi computer che avevo sulla mi scrivendo e scrissi un'email in tutto il mondo, in tutte le lingue, al mondo dell'ipnosi, se esistevano casi curati, guariti, trattati con l'ipnosi vera e professionale e l'ictus, l'ischemia cerebrale, la paralisi cerebrale, l'infarto cerebrale e tutti rispondevano all'unisono no, non c'è nulla da fare, scrissi anche a luminari dell'ipnosi medica, molto conosciuta a livello internazionale, i quali rispossono no, 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 perché diciamola tutta, luminare o non luminare si vive, l'uomo segue il gregge, quindi se qualcuno non ci ha provato lui dice non si può, questa cosa mi manda, mi dà proprio enorme fastidio perché bisogna sempre aprire la pista, provare, per cui mentre stavo per gettare la spugna, vidi l'orizzonte su uno dei miei computer e sulla scrivania, vidi l'email della dottoressa Rina Brunini che mi disse sì qui a Los Angeles aiutiamo e abbiamo aiutato tante e tante persone e lì è iniziata la mia avventura, per due anni ho fatto il suo assistente online, ipnotizzavo a mio padre in 30 minuti facendo così mio padre si è alzato e ripreso a vivere, eccetera eccetera eccetera, storia, storia, storia che racconto anche in molti altri video, ok? Purtroppo mi stanno facendo segnali dalla regia, mi chiamano, fammi tutte le domande del caso, visita il mio sito internet www.ipnologiassociati.com, la mia fanpage su Facebook, ipnosi, autoipnosi del dottor Claudio Saracino, iscriviti a questo canale YouTube, benessere, ipnosi, soluzioni di CS del dottor Claudio Saracino e fa share, condividi con amici e parenti perché può essere quel quid, quella molla che gli può cambiare la vita e seguimi anche gentilmente sugli altri social, Instagram e Twitter, benessere, ipnosi, soluzioni di CS del dottor Claudio Saracino, un bacio, un abbraccio amico mio, amica mia e alla prossima del dottor Claudio Saracino, ciao!